allora ciao filippo mi hai chiesto il video ti faccio il video appunto in base a quello che mi hai richiesto allora oggi diciamo c'è stato un apprendimento attivo nel senso avevo il torneo ho giocato avevo prima un giocatore debole con cui sono sempre stato concentrato come se fosse un 2 1 debole nel senso 3 4 io 3 2 e ho vinto 6 1 6 2 ma concentratissimo attaccavo tutte le palle stavo sempre sul pezzo come se giocassi contro nadal seconda partita avevo un 3 1 che è già 2 5 perché giova molto bene ragazzino giovane perso 6 1 6 3 ma anche lì concentratissimo non ho mai avuto panico sono entrato in campo proprio con l'idea di dire togli le paure e pensa solo alla partita pensa solo a fregatene del risultato pensa solo a stare bene e a portare a togliersi i demoni dalla testa direi è andato benissimo sono stato contento cioè ho cominciato ad applicare la metodologia e vedo che funziona alla grande ho prenotato il volo quindi pagato la trance del del corso sono pronto sono casatissimo come vedi sempre a giro con la maglietta mental tennis sempre sempre qui attiva tutto lo staff la maglietta e poi faremo una foto tutti insieme abbiamo fatto interviste abbiamo fatto i video abbiamo fatto un una clip e tutte mental tennis è sempre presente quindi sono contentissimo di fare parte di questo progetto ci vediamo domani poi per l'aggiornamento e per l'apprendimento ok grazie tutto buona domenica ciao filippo